Buongiorno, grazie alla partnership da Allianzia, Vinfor dovete presentare la nuova divisione Vinfor 4.0 che porta qua in fiera al Max Pay di Parma una nuova suite comprensiva di hardware, software, applicazioni Il computer è in grado di connettersi a internet e inviare i dati nel gruppo Quindi l'utente potrà visualizzare la timeline piuttosto che la dashboard Piuttosto che dialogare in senso inverso con lo standard key di Allianzia e quindi inviare dati all'ipotetica macchina qua rappresentata Inoltre con la soluzione Maint & UptoInfo è possibile avere un tablet ad un bordo macchina Dotato di telecamera a riconoscimento facciale Cosicché il tecnico avvicinandosi alla macchina non deve neanche autenticarsi perché l'autenticazione avviene in automatico Il tecnico può eseguire l'intervento di manutenzione sulla macchina come anche collegarsi al messo di produzione dell'impianto Buongiorno a tutti Aldo Musci, UptoInfo, Connected by Allianzia Oggi mi voglio presentare la nostra soluzione che grazie alla tecnologia militante plug and play di Allianzia permette a bordo macchina di dare e di rispondere alla sfida del nostro proprio prodotto Grazie al semplice pannello CEVAI posto da bordo macchina L'operatore è in grado di analizzare tutte le sue manutenzioni da eseguire a bordo macchina Queste manutenzioni derivano direttamente dai dati di macchina Per cui l'utente può sempre effettuare la manutenzione opportuna Rilevando le ore macchine, il funzionamento e ore dati di acqua In questo caso vi faccio vedere ad esempio la manutenzione associata a questa macchina dove posso esplorare ad esempio i disegni, come eseguire la manutenzione piuttosto che consultivare la mia manutenzione In aggiunta il nostro sistema offre un sistema paperless dove posso vedere i disegni relativi al programma che viene eseguito in produzione in quell'istante fino ad arrivare al lancio del programma di produzione direttamente dentro la macchina In questo caso connettendomi direttamente le pieglie e le ansia sono in grado di inviare un partner della mia fase produttiva Grazie a tutti per l'attenzione 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 Grazie a tutti per l'attenzione